Grazie Elena Leuntel, grazie al Circolo dei lettori di Torino per avermi anche coinvolta in questa serata, grazie a voi che siete qui. Io sono Rosa Polacco, lavoro a Radio 3 e mi occupo abbastanza di Europa, me ne occupo come ce ne occupiamo tutti da tanti anni a questa parte perché soprattutto lì l'attualità ci insegue e ci permette o costringe a seconda dei punti di vista a confrontarci con questo sogno che è l'Europa con questa entità che da tanti decenni si cerca di costruire in un modo più solido di quanto già non sia. Sappiamo che appunto se ci sono delle strutture portanti, solide come quella economica, mancano invece altre strutture altrettanto importanti alla realizzazione compiuta di un'idea d'Europa e soprattutto una di queste voci mancante è proprio la voce culturale, il che in parte è un paradosso visto che l'Europa è composta principalmente da quelli che sono i suoi spiriti culturali che la animano e che la attraversano e per questo è molto interessante e appassionante la scelta che ha fatto il Circolo dei Lettori di iniziare questo ciclo di incontri sull'Europa proprio con Olivier Goetz perché come diceva prima Elena questa antologia che lui ha curato, Le Grand Tour, scusate il mio francese è pessimo e a Torino, lo so che questo è una grave mancanza anche se fortunatamente lo capisco e lo leggo ma non lo so pronunciare bene comunque Le Grand Tour Autoportré de l'Europe passé écrivant, scusate, pubblicato da Grasset a marzo di quest'anno in un momento tra l'altro in cui, insomma il libro è uscito che già avevamo di fronte quello che stava succedendo in Europa immagino che quando è stato pensato da Olivier Goetz non ci fosse ancora questo macigno che pesava sull'Europa e sulla nostra identità è una storia d'Europa, anzi no, è un ritratto dell'Europa attraverso però la sua storia, la storia che i 27 scrittori di 27 paesi diversi compongono partendo dai propri paesi scegliendo un luogo simbolo comune, del comune sentire, del vivere comune e sono capitoli che vengono da radici diverse per scrittura, per identità, che sarà una parola importante questa sera identità, che è un racconto di differenze che però si stringono l'un l'altra per mano verso una direzione comuna che è quella dell'Europa, tra gli scrittori presenti nell'antologia, nomino alcuni dei più letti anche qui in Italia sono passati anche per questo luogo, per il circo di lettori come Fernando Aramburu, Melis de Carangal, Laszlo Krasnorka per l'Ungheria, Conto Ibbin per l'Irlanda, Rosella Postorino per l'Italia, insomma una geografia molto affascinante, molto intensa dove Goetz ha chiesto ai colleghi scrittori d'Europa di raccontare la loro Europa allora vorrei chiedere per iniziare questa conversazione a Goetz come è nato questo progetto, con quale spinta culturale soprattutto, con quale obiettivo e come hai dialogato con gli altri autori per costruire questo Atlante? Grazie, grazie Rosa, buonasera a tutti, sono molto contento di tornare a Torino e di parlare di questo progetto europeo questa idea è nata più o meno due anni fa con la presidenza della Francia dell'Unione Europea che ha cominciato in gennaio di quest'anno e la prima idea era di fare un festival della cultura europea un festival non solo con scrittori ma anche con tutti i tipi di artisti perché noi scrittori ci incontriamo qualche volta in festival la gente del cinema si incontra in festival, gente di teatro in festival però non ci incontriamo mai tutti insieme per parlare della cultura europea e quindi sono andato al Ministerio degli Affari Esteri per fare questa proposizione e lei aveva un'altra idea per la presidenza era di fare un oggetto e quindi per me era solo l'unico oggetto che posso fare che non posso fare, che posso immaginare, un libro e quindi è nata questa idea del Grand Tour è una idea molto semplice, io ho chiesto a 27 autori sono quindi un autore per ogni paese dell'Unione Europea di scrivere su un posto del loro paese che per questi scrittori evocano l'idea dell'Europa e altrimenti erano totalmente libri scrivere una fiction, non fiction qualcosa sul passato, sul presente tutto era possibile e così è nata l'idea del Grand Tour il dialogo era molto semplice ho fatto questa proposizione agli autori la maggiorità ha accettato molto veloce l'idea e io ho lavorato con loro come mi piace lavorare con un editore con tutta la libertà penso che un grande editore lascia la libertà agli autori fanno fiducia, io ho fatto la fiducia e quindi gli autori avevano due mesi per scrivere la sua contribuzione e poi io avevo più o meno no, prima c'erano i traduttori che avevano due o tre settimane e io avevo un mese per fare tutta l'edizione del libro perché certamente il libro doveva uscire per la presidenza della Francia non dopo e quindi tutto era molto stretto però l'abbiamo fatto come vedete Olivier parla perfettamente italiano però c'è Sara Cominetti che ci aiuta se poi a un certo punto Olivier vorrà parlare in francese insieme con Sara però da due anni provo di vivere a Roma e quindi parlo più o meno l'italiano adesso però sono molto contento di avere Sara vicino da me almeno che poi se sbagli qualcosa ti rimprovererà evidentemente ho la coperta di Linus è bravo no a parlare italiano come grazie come al circo c'è un filetto no? se qualcuno va ecco anche questo scambio sulla lingua mi porta a entrare subito nell'anima del libro o forse nell'anima della tua idea che è quella dell'identità tu ne hai parlato anche spesso in questi giorni sono usciti diversi articoli molto belli interviste oggi uno di Maurizio Crosetti su Repubblica e ho capito che l'identità per te è centrale in questo progetto editoriale ma anche e soprattutto il progetto nasce anche da questo come anello mancante di qualcosa di cui parlavo prima l'identità europea è quello che ci manca e tu dici che è una questione fortemente politica e che però identità è una parola che per troppi anni, decenni è stata appesantita da dei significati che soprattutto in Italia ma forse anche negli altri paesi forse anche di più in altri paesi dell'Europa ha impedito di poterla usare in una sua accezione positiva identità era qualcosa che portava per forza a un'equivalenza con i fascismi con le chiusure invece identità oggi diventa qualcosa di cui bisogna riappropriarsi ma non in nome del conflitto bensì nel nome dell'unità e come si compie questo passaggio e perché per te l'identità è una questione fortemente politica io penso che per una nazione ad esempio per me io sono europeo prima di essere francese sono europeo e quindi io mi ho sempre chiesto cosa è l'identità europea e per decenni l'identità era una parolace per la sinistra ad esempio la sinistra aveva una paura enorme della identità e possiamo capire anche perché tutta la prima parte del secolo passato l'identità ha fatto cose tremendi, orribili per l'Europa e anche c'era la storia coloniale ad esempio per la Francia quindi l'identità era un tabù totale però le nazioni sono come le persone se non conosciamo la nostra identità non possiamo andare è impossibile di andare in qualche parte siamo bloccati se non ti conosci non vai non fai niente e quindi l'Europa capisco come ha cominciato l'Europa negli anni 50 era impossibile di parlare di identità per ragione evidente fascismo nazismo era impossibile era era meglio di cominciare come ha cominciato con una modestia con le con il ferro con il carbone per solo evitare la guerra questo lo capisco però dopo e passiamo agli anni 80 dove veramente c'è un grande enorme sviluppo dell'Europa con Jacques Delors con tutti però a questa epoca e penso che veramente il progetto dell'Unione Europea è ancora rimasto negli anni 80 c'è questa agenda neoliberale per l'economia liberazione per tutti i settori anche per la cultura però la cultura non era mai pensata come veramente una questione di civilizzazione di identità però solo un settore dove si può liberarsi e fare soldi con questo questa era la destra destra neoliberale e dall'altra parte c'era la sinistra e la sinistra dalle anni 80 dalla guerra che aveva paura di questa identità e quindi c'è un vuoto nella costruzione europea non c'è niente veramente per definire la cultura europea in questo vuoto sono arrivati tutti i populisti tutti la destra estrema che lei aveva una idea molto precisa dell'identità e da 30 anni 40 anni noi folghiamo questa destra estrema sull'identità e questo è un problema enorme per l'Europa perché l'Europa ha funzionato bene prima i crisi però noi siamo in crisi da almeno 15 anni e quando c'è una crisi è come una famiglia se non c'è questa relazione questo collegamento di famiglia la gente non aiuta l'altra gente perché non c'è questo sentimento di solidarietà non c'è niente e dalla crisi greca cosa è successo in Europa c'è l'egoismo perché non c'è questo collegamento e il collegamento si fa con una cultura comune e senza questa cultura comune l'Europa è bloccata perché non può rimanere un progetto solo europeo un po' politico un po' militare dobbiamo avere relazione con i finlandesi con i tedeschi con i ungaresi con i francesi perché compartiamo qualcosa e questa idea del del compartimento non è mai successo e questo è un problema enorme e la responsabilità dei politici è gigante in questo è interessante che tu ti definisca che tu ti senta europeo prima che francese sono sono veramente sei europeo è interessante che tu lo dica di esserlo perché è qualcosa non ti offendere ma che di solito dicono le persone più giovani di noi perché sono molto giovane tu sei giovanissimo per favore però non sei tu la signora quindi non è un problema i ragazzi più giovani diciamo la generazione che ha dai 20 ai 30 anni è quella che forse si è mossa anche con più libertà di noi anche grazie a qualcosa che è intervenuto poi nella nella storia europea per esempio Schengen o sì l'Erasmus ovviamente quello c'era insomma pure quando ero piccola io ma ecco una cosa come Schengen è stato un momento in cui per esempio l'Europa ha cercato di di capire di colmare forse dei vuoti che c'erano sulla mobilità mobilità che però non è perfettamente compiuta ma insieme a questo unisco un altro momento che è stato non compiuto della storia d'Europa di questi ultimi decenni e tornando al discorso dell'identità cioè da un lato l'Europa apriva tutte le frontiere con Schengen permettendo la libera circolazione di merci persone motivi di lavoro studio vabbè il viaggio ovviamente non era una questione dall'altro però si chiudeva di fronte alla ricerca dell'identità ti ricorderai e lo ricorderete anche voi ci fu una discussione molto aspra molto conflittuale sulle radici cristiane dell'Europa se era il caso di metterle nella costituzione europea oppure no erano anni difficili era un momento molto complicato dove il conflitto camuffato etnico religioso in realtà razzista prendeva le misure con quello che stava succedendo nel mondo l'11 settembre eccetera però è stata era un momento in cui si poteva forse cogliere qualcosa invece quella scommessa non siamo riusciti a catturarla cosa pensi di quel momento questo era per me era un errore enorme era un errore francese i francesi hanno rifutato questo e come l'ho detto se non sappiamo di dove siamo chi siamo non possiamo andare in alcuno posto è impossibile questa paura di finalmente accettare chi siamo la nostra storia ma è totalmente absurdo quando c'è un cinese un americano che viaggia in Europa che vedi le chiese non solo chiese anche ruine romane greche chiese però si può sapere più o meno facilmente di dove siamo e la gente il popolo europeo se c'è uno ha bisogno di questo la globalizzazione ha cambiato le nostre identità e la gente con l'unione europea avrebbe bisogno di qualcuno che le aiuta che le aiuta a accettare il nuovo mondo però anche a accettare di dove sono e questo ruolo l'unione europea non lo gioca e quindi c'è molte persone che si sentono un po' perse e per me era un errore enorme e quando parliamo di di radici cristiane non significa che l'Europa va a come si dice cristianizzare 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 tutto il resto del mondo questo è il passato non è solo il passato fa parte della nostra identità e quello dobbiamo accettarla e l'Europa è l'unica è l'unico continente che non accetta chi è di dove è e tutto questo e quindi era un questo vuoto era fantastico per tutti le destre populiste perché era ridicoloso perché hai solo bisogno di passare due giorni in Europa per capire di dove sono i europei tutta questa storia molto complicata però si vede di dove siamo e chi siamo almeno all'inizio questo misto di tutto di culture di religione però dobbiamo definirle questo è importantissimo per me e poi forse si vede ancora di più oggi che cos'è l'Europa cosa sono ma anche solo le città europee nel mondo ormai sempre più aperto va bene adesso a parte questi due anni di stand by per la pandemia ma insomma in un mondo sempre più più aperto dove peraltro la globalizzazione ha raggiunto il suo limite estremo e chiudendo il cerchio ma l'incontro con le città le città sono l'esempio più concreto più tangibile dell'idea che un paese ha di se stessa e della propria rappresentazione perché sono lo spazio economico lo spazio sociale lo spazio della cultura della rappresentazione di sé la città europea è vecchia non è una novità ma non esiste più e non esisterà mai più le città che si costruiscono ormai da diversi decenni in poi non penso soltanto all'Asia perché anche quelle ormai sono città vecchie ma all'Oriente al Medio Oriente ai paesi africani sono città completamente diverse da come le intendiamo lì noi e lì hai proprio il segno appunto tangibile di qualcosa che definisce le identità prima parlavi di Buenos Aires perché come forse sapete come diceva prima anche Elena Loventel l'ultimo libro di Olivier Goetz appena uscito ci trasporta in Argentina intorno a Maradona ma prima parlavamo appunto di Buenos Aires e Olivier diceva che Buenos Aires per lui è la città più europea che abbia mai visitato allora lo vuoi raccontare prima di parlare di Buenos Aires volevo tornare un po' al libro per me l'idea di questo Grand Tour era di dare una faccia e un po' di carne a questa idea europea prendiamo i nostri banconotti questo è geniale i banconotti europei non c'è nessuno su questi banconotti c'è solo ponti archi che un computer ha designato ponti che non esistono ponti che non sono in nessuna città unica nel mondo in Europa abbiamo non so centomila di persone geniali scrittori pintori però abbiamo deciso di avere nessuno questo è un esempio c'è un altro esempio che mi interessa molto quando vai in queste queste quartiere di Bruxelles europei che sono brutti c'è una statua una statua che si chiama una statua che si grazie che si chiama l'uomo che cammina e questa statua deve rappresentare l'idea europea e cosa è questa l'uomo che cammina che cammina è un uomo sonambulo che cammina nel vuoto questa è la statua che simbolizza l'avventura europea in America c'è la statua della libertà che tutto il mondo conosce che rappresenta l'idea americana e noi abbiamo l'uomo che cammina e che va che sonambulo sonambulo e questo è pazzo e tutti è così che questa idea europea fino ad oggi non c'è carne non c'è faccia è più o meno come dire frigida una canza pazzesca però quando viaggiamo in Europa l'Europa è tutto il contrario c'è carne c'è faccia c'è avventure c'è storie c'è tutte però l'unione europea come funziona come istituzione europea non c'è niente e l'idea del Grand Tour era di dare un po' questo con gli autori europei che raccontano la storia che raccontano i paesaggi europei che raccontano storie europee e questo era importante quando parli di Buenos Aires sì ho detto che per me è la città europea perfetta è l'Europa che non esiste cosa è Buenos Aires? Buenos Aires è un misto di gente europea da 4-5 generazioni mette tutte questa gente italiani spagnoli francesi tedeschi ebrei di Polonia è tutto metti tutto un checker e 4-5 generazioni che c'è un bordello economico gigante anche geniale un casino politico però una grande cultura è veramente il contrario dell'Europa di oggi l'economia è media in Europa c'è un po' di politica un po' più organizzata però una cultura europea non c'è c'è una cultura italiana c'è una cultura francese tedesca eccetera eccetera e quindi Buenos Aires è interessante però al fine del mondo e l'Europa come funzionava prima la prima guerra mondiale quando era facile di viaggiare di vivere in un altro paese europeo di parlare altre lingue però non c'era insinuazione sono veramente il contrario dell'Europa di oggi beh era anche una cosa molto elitaria che potevano permettere sulle lezioni facciamo un paragone tra l'America e gli Stati Uniti e l'Europa la grande differenza che in Europa la mobilità è molto molto complicata non vado a dire questa sera come è complicata di andare della Francia all'Italia quando non fai parte di una grande multinazionale che che paga tutto e che organizza tutto però come scrittore come artisti ma è incredibile è complicato e se non c'è mobilità non c'è l'Europa e prima prima la prima era molto 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 più facile questi sono piccoli esempi però raccontando l'idea della nostra Europa che non è veramente fatto per il popolo per la gente per altre cose un livello differente non era mai pensato al livello dell'individuale al livello del virtuale no un livello economico un livello finanziario politico anche un po' militare adesso e questo va bene però al livello veramente di scambio di cultura di gente di popolazione c'è Erasmus altrimenti c'è veramente pochissimo è molto complicato molto complicato beh anche anche lì poi soprattutto i progetti le realtà che mi vengono in mente sono soprattutto o come dicevi tu adesso a parte le multinazionali ma insomma lavorativo aziendali quindi con una struttura che già per sua natura è capillare oppure di studio se sei fuori diciamo da queste due realtà di sostegno è più difficile non muoversi in generale cioè non viaggiare tra Roma Berlino Budapest ma stabilirsi provare a stare un periodo fare dei lavori ma allora quello che mi interessa chiederti a questo punto è se che differenza c'è perché l'Europa adesso hai citato anche l'America abbiamo fatto un accenno a Buenos Aires l'Europa nella sua mancanza di compiutezza guarda sempre all'America cioè agli Stati Uniti immaginando una federazione su quelli dellì però è una federazione impossibile perché la composizione a suo tempo dell'America paradossalmente era molto più omogenea di quanto non lo sia oggi quella europea che anche solo per il fatto di non avere una lingua comune è difficile possa costituirsi in questo senso ma soprattutto ci sono delle fratture della storia recente che 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 dividono culturalmente l'Europa dell'Est dall'Europa dell'Ovest e se vogliamo anche l'Europa del Nord dall'Europa del Sud allora mi chiedevo come gli scrittori che hanno partecipato all'antologia ma anche come conoscendo tu bene l'Europa i cittadini pensi che sentano la cultura europea dal punto di vista del loro paese di provenienza quanto pensano che la cultura sia manchevole che la cultura europea sia manchevole se ci sono mi spiego meglio se ci sono paesi dove la cultura europea è più forte che in altri io ho sempre pensato che nelle paesi più piccoli la cultura europea è più importante o un posto più importante che nelle paese più grandi dove la cultura nazionale è più importante tipo la Francia la Germania o l'Italia io sono andato ho fatto un grande giro dell'Europa per presentare il Grand Tour nella primavera e ad esempio in piccoli paesi come la Lettonia l'Estonia la Slovacchia la Finlandia la cultura o anche la Belgio la cultura europea si è più è più importante questo per cominciare è certo che la e questo è interessante con l'Europa che abbiamo una storia comune e abbiamo soprattutto gli ultimi o gli anni tra 45 e 90 che sono molto differenti e questo si può leggere nel libro che c'è l'esperienza del totalitarismo sovietico russo che fa una differenza enorme ad esempio il scrittore Slovago più o meno la la stessa generazione lui è nato nel 66 lui ha vissuto nella sua carne l'esperienza totalitaria e fa una differenza io ho letto molto sul comunismo sul sovietismo però non ho idea com'era e quindi per tutta questa gente l'esperienza all'istoria la prossimità all'istoria è enorme e si vede di nuovo da sei mesi i rapporti alla Russia i rapporti all'Ucraina sono molto differenti a questo e la piccola esperienza che ho avuto in questi paesi sono andato in Romagna in Slovacchia Estonia l'Italia anche la metto la Finlandia però la storia della Finlandia è molto differente però cosa ho visto che in questi paesi la gente che ha un grande interesse per l'Europa è molto più giovane che la gente nell'Occidente dell'Europa nell'Oeste dell'Europa sono molto più anziani che hanno questo rapporto alla storia ancora con la guerra sono veramente figli di gente che hanno vissuto la guerra all'Este è il contrario sono gente molto 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 più giovane che hanno vissuto come europei e che vogliono rimanere europei e questa è la guerra in Ucraina però altrimenti abbiamo una cultura comune e ancora quando quando un non europeo viaggia in Europa lo capisce molto meglio di noi perché si vede magari si ha scritto cose bellissime sull'imperio austro-ungarico e lui ha scritto che un secolo due secoli o cinque secoli quando qualcuno va a veleggiare nell'Europa centrale nella vita dell'Europa va a capire che questo imperio era come l'imperio romano perché c'è una citertura comune a questa parte dell'Europa io ad esempio sono nato e ho cresciuto a Strasburgo però Strasburgo ha molto di più in comune con Lemberg il Vif o il Vof adesso che con Toulouse mi sento più a casa all'Oeste dell'Ucraina che in Lodgarone a Toulouse perché fa parte della stessa civilizzazione mi sento a casa a Trieste ad esempio perché questa cultura comuna quindi c'è questa parte centrale dell'Europa che ha avuto è come una stella con del pollo delle cotte delle settuali come on dice le punte delle stelle che si vanno in tutte le direzioni però c'è questo centro che è un misto di cultura romana greca cristiana ebrea e dopo il cristianismo però però abbiamo tutto questo insieme anche le guerre naturalmente il dopo guerra certamente però c'è questo però non c'è una una cosa straordinaria che nelle scuole dell'Europa non c'è un corso comune su questa storia sarebbe la cosa la più la più basica a organizzare altrimenti non c'è non c'è solidarietà non c'è solidarietà tra i popoli è impossibile se non c'è questa sensazione di fare parte di qualcosa di molto più grande che la nazione e la gente ha capito che la nazione può funzionare per qualche cosa però non funziona più come prima quindi qualcosa manca è interessante ascoltarti perché parlando di come questo sentimento europeo si riveli più forte nei piccoli paesi o nei paesi dell'est poi se uno pensa che l'Europa la forza per una parte della popolazione nasce invece decisamente ovest prima con le monarchie e gli stati nazionali Francia Spagna e vabbè allora Inghilterra poi con la rivoluzione industriale e la potenza economica se vuoi anche con il colonialismo e un'altra matrice comune è sicuramente quella della guerra della guerra del novecento anzi delle guerre del novecento allora mentre parlavi mi chiedevo da un lato appunto qual è il primo passo per costruire questo anello mancante soprattutto sul piano culturale hai dato un'idea quello di pensare a dei corsi comuni nelle scuole su questo ma invece continuo a chiedermi dove bisogna andare indietro a rintracciare questo anello comune dell'identità europea e dove bisogna fermarsi indietro nella storia per non perdere di vista il fuoco forse a questo punto non lo so alla caduta del muro di Berlino non so se quello è un momento indietro quando diciamo indietro della storia pensiamo alle guerre pensiamo a Auschwitz pensiamo al Gulag pensiamo però dietro la storia non c'è solo questi c'è una grande storia che è anche positiva la storia dell'Europa è naturalmente ricchissima c'è cose positive c'è cose negative gli ultimi dalla guerra e per ancora ragione che sono molto valide abbiamo un'idea molto molto negativa della storia europea però c'è tutto c'è tutto i grandi scoperti europei sono geniali non c'è solo il colonialismo il colonialismo è molto importante è gravissimo assolutamente anzi è l'unico continente che ha consentito 60 anni di pace quindi è un inedito nella storia e anche la la mente la mente europea o europea non so europeo mente europea grazie la mente europea di cercare sempre qualcosa di anche la competizione europea è interessante tutti questi piccoli paesi in tutte queste piccole città le grandi scoperte europee la navigazione europea l'arte europea tutto questo è molto positivo e quindi abbiamo qualcosa di molto complicato con cose positive cose negative però esiste e non lo usiamo e questo è pazzo l'idea della storia europea quella che abbiamo è molto tedesca e questo lo capisciamo io ho vissuto cinque anni a Berlino ho scritto molto sulla storia tedesca nel secolo passato e naturalmente è orribile però la storia tedesca non è solo i dodici anni del nazismo c'è la storia delle lumiere c'è una storia della poesia c'è e quindi la storia dell'Europa è come la storia della Germania della Germania c'è un po' di tutto e questo dobbiamo usarla non solo gli aspetti negativi altrimenti non va a funzionare per i giovani questo può funzionare con più o meno ancora la nostra generazione però dopo non c'è una relazione a questa storia una relazione personale che è la relazione la più importante mi ha colpito quando hai usato la parola competizione perché è una parola chiave soprattutto sì probabilmente anche sul piano culturale la competizione tra le culture dei diversi stati soprattutto tra gli stati superstar appunto la Francia la Germania l'Italia non ci denigriamo a una cultura studiata in tutto il mondo l'Italia è l'esempio perfetto per questo però c'è c'è una storia che è ancora più conflittuale in Europa che è quella dell'industria e dell'economia e infatti parlavi della Germania che è stata a lungo ed è di fatto il motore dell'Europa dello sviluppo del progresso economico e anche un limite per molti altri altri paesi e allora mi interessa il tuo punto di vista anche sugli studi economici sugli studi sociali da questo punto di vista perché tu hai spiegato in diverse occasioni che le matrici diciamo neomarxiste e neomarxiste del pensiero economico e sociale europeo poi si sono scontrate invece con la pratica dell'economia e della società europea che invece è liberale e neoliberale questo secondo te ha prodotto anche un conflitto culturale che si che si sente o sono solo questioni da studiosi da filosofi o si vivono poi sulla vita identitaria culturale del credo un po' di poco un po' di tutto come sempre la competizione ha sempre fatto parte della storia europea dopo la caduta dell'imperio romano piccoli stadi piccoli piccole città per l'industria non so non è veramente la mia il mio settore però penso che è più o meno come il calcio che la competizione fa sviluppare gli altri fa parte della storia europea per l'industria per la cultura e anche per il calcio funziona più o meno lo stesso che aiuta e anche ma soprattutto ha aiutato quando guardiamo la storia dell'europea dell'Europa ha aiutato molto il sviluppo questa competizione ma anche le guerre che hanno sempre fatto parte della storia europea e però quando ha cominciato la prima guerra mondiale nessuno ha pensato che era una guerra mondiale la gente ha pensato che è un'altra piccola guerra un'altra piccola competizione però non era e ha cominciato la caduta dell'Europa a questo momento e da lì in realtà avrei avrei voluto partire perché insomma ci stiamo girando intorno da quasi un'ora però questa è l'Europa che abbiamo davanti adesso è l'Europa della guerra però vorrei fare un passo indietro a due anni fa l'Europa sta vivendo dopo 60 anni il momento più complicato della sua storia di fronte appunto alla guerra di invasione in Ucraina e prima veniva dalla pandemia perché parlo della pandemia perché in Italia ci sono stati degli anni feroci contro l'Europa dal punto di vista economico soprattutto ma anche politico poi la cosa si è un po' assopita è arrivata la pandemia improvvisamente l'Europa che insomma provocava molto scetticismo è diventata invece uno scudo protettivo perché l'Europa in quel momento è riuscita a fare qualcosa di molto importante per esempio tutti gli accordi sui vaccini che sono stati decisi a livello europeo con gli accordi tra gli stati non era una cosa facile ci sono stati degli errori dei piccoli errori ma insomma questo accordo ha permesso a tutti i cittadini europei di di vaccinarsi nello stesso modo di curarsi nello stesso modo ed è stata una cosa molto importante è stato un grande traguardo una grande vittoria di quell'Europa che era ormai molto molto fragile poi però è arrivata la guerra e l'Europa si mostra di nuovo molto compatta e molto solida di fronte a questo qualcosa che non avremmo neanche forse immaginato sperato si mostra anche interessata all'apertura ad altri paesi un'apertura che sarà molto più complicata immaginiamo negli anni a venire però ecco in questi ultimi due anni l'Europa si è trovata davanti a due macigni la pandemia che era qualcosa di inaspettato e ingestibile che ora scompare di fronte all'enormità della guerra questi questi due momenti ma insomma soprattutto la guerra che opportunità pongono secondo te all'Europa e che fragilità invece profonde rivelano io vorrei parlare soprattutto della guerra la pandemia una pandemia era un passaggio che volevo fare per mostrare come si veniva da un momento di vittoria uno di abissi la guerra non so quando ha cominciato l'Europa si ha mostrato cose che non aspettavamo questo è vero però adesso questo ottuno e questo inverno andiamo a vedere chi siamo noi che coraggio abbiamo o che non coraggio abbiamo che paura abbiamo come egoisti siamo siamo egoisti non siamo egoisti all'inizio era semplice di dire ok noi andiamo a aiutare l'Ucraina e l'Europa ha aiutato molto l'Ucraina però adesso sono le ore della verità perché adesso l'ottuno va a cominciare l'inverno va a cominciare hai bisogno di aiuto come l'Ucraina e quindi queste sono le ore della verità e io voglio voglio chiedere che l'Europa veramente ha capito che sono le sfide di questa guerra ma non sono certo anche che l'Europa ha veramente capito se prendiamo il caso della Francia all'elezione presidenziale qualche mesi fa ok Macron era il primo però dopo i tre primi che erano Le Pen Mélenchon Zemmour tutti hanno avuto una relazione molto molto forte a Putin e non ha cambiato niente la guerra niente adesso in Italia tutta la gente mi dice la destra va a vincere quale proporzione non sappiamo Salvini era pazzo della Russia di Putin Berlusconi era un grande amico ancora un grande amico di Putin va a cambiare qualcosa non penso Orban era e va a rimanere un grande amico di Putin ha cambiato qualcosa le ultime elezioni in Ungheria niente quindi non so non so la cosa che spero che è più facile naturalmente quando hai un po' di soldi è che la gente non va solo pensare alla sua famiglia al suo benessere e anche pensare all'importanza storica che succede adesso in Ucraina e adesso che succede in Ucraina è veramente per me una guerra sul futuro dell'Europa sì siamo veramente un continente libero che ama la libertà che è pronto a fare la difesa di questa libertà o no e questo andiamo a saperlo molto veloce i prossimi sei mesi per me saranno i mesi della verità per l'Europa con l'Ucraina e la Russia beh anche perché adesso c'è una non credo ti riferissi a questo però i prossimi sei mesi saranno anche particolari per una questione molto banale ed egoistica cioè quella climatica in Italia la discussione più o meno dall'inizio della guerra a parte un conflitto tra come semplificarlo impossibile semplificarlo come sintetizzarlo tra pacifisti e non pacifisti c'è stata un'enorme confusione forse anche inevitabile segno di una storia molto bloccata a un certo punto con l'inizio della guerra e con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il pacifismo italiano ha cominciato a dire che bisognava cercare la pace e i pacifisti si sono trovati spaisati e spiazzati anche isolati e visti come invece filo russi e filo Putin nel dibattito culturale italiano questo è qualcosa che ancora non si riesce a compiere dopo sei mesi anche chi aveva delle ritrosie non penso che chi vuole la pace sia filo Putin però c'è stato questo grande equivo con il dibattito culturale italiano da cui ancora non si riesce a uscire non è così in tutti i paesi d'Europa non conosco a livelli profondi il dibattito in tutti i paesi d'Europa però quello succede in Francia in Germania lo conosco di fondo c'è un egoismo che viene fuori nei paesi che si trovano davanti alla guerra e che viene prima dell'Europa forse anche proprio perché non c'è una struttura europea che che faccia rete davanti a questo penso all'energia penso alla paura del nucleare allora chi non vuole che si vada avanti nella resistenza nella guerra contro la Russia pone questi argomenti qui ma abbiamo bisogno dell'energia del gas per le nostre industrie per il lavoro se moriamo di fame di freddo e sulla sulla paura della della bomba atomica che la Russia voglia allargarsi ancora di più agli altri paesi eccetera però questo blocca la discussione a un piano appunto dell'egoismo nazionale e perde quella scommessa di cui stai parlando tu cioè quella del coraggio però ci vuole moltissimo coraggio da parte di tutti gli stati per potersi sentire in questa occasione sì davvero finalmente europea in maniera compatta solida forte ma sai io sono un scrittore e non sono giornalista e questi sono questioni molto importanti però io non ho fatto il grand tour per questo il grand tour era fatto era pensato prima della guerra ad esempio ho scritto la scomparsa di Mengele perché Mengele per me era il simbolo della caduta dell'Europa io ho sempre pensato a questi perché sono nato a Strasburgo una famiglia ebrea una famiglia ebrea un po' il mio papà era di Tunesia la mia madre l'amita dell'Europa io volevo capire come un continente come l'Europa che era sopra tutti i continenti per tutto fino 1914 si è ucciso in 30 anni e Mengele per me è il simbolo di questo lui era un borghese che aveva due che ha fatto due tesi che aveva ha sposato una donna che ha studiato la storia dell'arte e qualche anno dopo lui ha cantato l'opera a Auschwitz per me era questo simbolo e da questo momento come l'Europa ha fatto per sopravvivere ha fatto tutto questo che conosciamo l'Unione Europea l'Unione Economica l'Unione Politica però che c'è l'Europa adesso queste sono le mie non voglio parlare del gas del cambio climatico c'è tutto questo nei giornali non sono non sono qua per questo il Grand Tour è altro il Grand Tour è di raccontare l'anima dell'Europa prima della guerra e cosa è importante per me naturalmente la Russia è importante l'Ucraina è molto molto importante per me io non posso rispondere a queste demande tutti tutti di noi abbiamo una idea su queste cose non sono a Torino per parlare di questo io voglio parlare dell'idea della cultura europea che compartiamo che condividiamo tutti insieme questa è la cosa che va ad aiutarci o no a vincere questa guerra e a fare avere un futuro comune insieme o no e queste sono le cose importanti e gli autori del Grand Tour che raccontano raccontano due cose sul nostro continente la prima cosa sono le cicatrici del secolo passato che sono naturalmente l'Alocosto la Shoal e i crimi del comunismo in Europa centrale e Europa orientale e questo vivono ancora tra di noi e sono molto molto importanti per la nostra identità questo è un'identità negativa e questo non basta per avere un futuro comune insieme questa è la prima cosa dei testi del Grand Tour gli altri testi sono molto interessanti perché raccontano i luoghi comuni dell'Europa la stazione il museo il paesaggio di di mare le siti archeologiche le grandi piazze tutte le cose che possiamo incontrare in tutta l'Europa e questo è la nostra cultura e queste sono le cose che adesso abbiamo due possibilità sviluppiamo questi tutti insieme e facciamo una certa idea dell'Europa una cultura comune con tutte le generazioni o continuiamo come abbiamo fatto gli ultimi 50 anni un blocco economico senza anima senza carne senza viso questo per me non irà non ha un futuro e queste sono le cose importanti io posso parlare cosa ho letto nel giornale ieri oggi però io veramente sono un scrittore non sono qua per parlare di questo e non sono buono neanche per è per questo che chiediamo e leggiamo gli scrittori proprio per leggere oltre la realtà della cronaca attraverso anche perché la scrittura certe scritture sicuramente le scritture degli autori che hai invitato nell'antologia vedono le cose con un punto di vista che non è quello della quotidianità dell'attualità della cronaca che ha qualcosa di sfuggente ma ci danno la chiave i mondi le lingue i simboli soprattutto infatti ricordavi le piazze le stazioni i simboli per per riconoscerci al di là di quelle che sono appunto le catene che ci stringono del quotidiano e della cronaca e però proprio per questo allora ti voglio chiedere per chiudere poi non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda se in questo percorso in questo viaggio in questo mosaico dell'Europa che avete che avete tessuto c'è guarda questa è la domanda più difficile tutta la serata se tu dovessi immaginare di suggerire un un viaggio in Europa le prime tappe che suggeriresti o le più importanti pensando proprio a questo a dov'è più luminosa oggi quella traccia culturale dell'identità europea che avete cercato di raccontarci in questo libro io direi le fiume l'Europa è un fiume l'Europa ha cominciato con le fiume con questa comunicazione tra città tra gente per la per l'economia per le idee per la cultura veramente l'idea puoi fare tutto un giro dell'Europa con le fiume io sono andato a Strasburgo sul Reno il Reno va della Svizzera come tutto lo sappiamo alla Mare del Norte c'è il libro fantastico abbiamo già parlato di Magri sul Danubio però quando viaggi in Europa capisci che l'Europa sono le fiume e questo è l'idea del fiume è anche bellissima per l'idea dell'Europa qualcosa di fluida qualcosa che fa che raggiunge i popoli le culture le lingue quindi io farebbe un viaggio sui fiumi dell'Europa ecco vedi questa è proprio la risposta che mostra il cuore di quello che è beh poi alla fine il tuo libro il vostro libro cioè suggerire dopo tanti discorsi dopo tante domande una risposta può essere anche molto semplice e davanti a noi e quella poi è la chiave per conoscere l'identità e per scoprire tracce comune grazie a tutti